aereo e andiamo quindi molto cecchino che andiamo su forte sto pompa un bel po deve andare al negozio sicurità quel negozio la è libero sensualizza veloce compro un av compra due av se ce l'hai già vai un ancora un altro ok via buono cassa di munizioni cassa di colazzo abbiamo tutto o andiamo in prigione spade di cuocci buono stamme 4 sai che mi piace mi piace sta cuocci oh madonna speravo di essere andato pensavo di essere andato pronto esatto esatto arroco diretti risolvere se funziona penso che sto alzando invece mi puoi decidere dove? ah lì ci sarà sicuro qualcuno si vabbè lascia stare andiamo sopra guarda se c'è qualcuno c4 c4 fabbro c4 lì sull'aereo scendiamo eh pronto che adesso arriva e nel caso vai su bene è andato via ok sai che c'è il cieco salì sulle torri io do un occhio qua intorno se c'è qualcuno due ne hai usati? due ne hai usati? la da la cassa? si ma è la qua fabbro non è salita c'è un laser beam pinga pinga chiesto sono abbastanza vicini ah l'ho visto aspetta che faccio una roba uso una claymore passando a sotto oh ha sparato un bombardamento lì eh non vorrei che ci fosse gente qua la 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 fabbro nemico qui eh li manca uno di vita cazzo li ho sparato anche due volte finiscilo finiscilo eh non lo vedo io va bene va bene buono 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 l'altro è lì fabbro è in quella casale gli sta andando all'animale eh li ho fatto malissimo confermato no non è la usa sta cassa di munizioni se no aspetta quanti colpi hai? no no fermo non usa niente tu c'è la cassa di protezioni però io ho quella di munizioni ma quanti colpi hai dell'assalto? allora uso la cassa di munizioni eh io no vabbè oh intanto li abbiamo visto beh abbiamo fatto male fabbro bisogna anche ok gente giù gente a 40 metri due diciassette metri sono quelli della prigione siamo nella zona sicura no occhio ai nemici sono in aria forse eh erano in aria occhio all'aereo eh erano in aria sì perché non ci sono più nove metri uno lì 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 fabbro lì 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 mi muovo di qua sta salendo su per questa torre eh mi muovo di qua UABINERICO IN VOLO ho sparato un po' all'aereo così no così è lì quando? quasi quasi li pusherei No, no, giochiamo, non giochiamo in serie Dove l'ho messa? In ogni caso se sale muove Comunque non è un fantasma Eh, non so troppo No, sai cosa dovevamo fare? L'ho sbagliato io, dovevamo fare una roba Sinistra non lo so Eccolo, è sopra uno L'ho rotto, fa provato, sti cazzi Fatti tutti e due Merda, c'è una mina Gassi in arrivo, zona sicura riposizionata Restano 25, continua così Merda, no, no, erano pieni di armi Mi sa che c'è uno, fa bro, c'è uno mi sa No, c'è un fantasma Testa in su, nel caso ci muoio io No, è libero, è libero Tanto ho messo la Kramer qua quando sali Madonna fa bello devastati con sto pompo No, non c'è più la Kramer, ah no, sì che c'è Così mi sono rifatto, mi sono rifatto le munizie Qua cosa c'è? Un ricercato L'elicottero, molto bene Comunque quelli lì erano quelli che erano scesi Comunque ottima position Siamo nella zona in movimento Sono quelli di prima quelli Ah dobbiamo, eh Aspetta, dobbiamo difendere da tutti i posti Sono scesi? No, no, non l'avrebbero mai pigliato Però li ho fatto male Secondo me sono in quella torre là Ma non sono sicuro, forse sono scesi Noi copriamo il ponte, eh Ignorate in movimento Ignorate quello che ho detto Qua, là? In movimento Nemici nell'ario Sono sicura riposizionata Mi attaccano Eh Io anche non lancio un bombardamento Resistati, salvo io Occhio, eh Non dobbiamo morire Dobbiamo difendere Siamo in zona perfetta Dai, stai safe Non provare a ucciderli Tanto non ce ne ho bisogno Siamo in zona sicura Occhio ai delici Ciao Vabbè gente qua Vado di qua Ho capito C'abbiamo gente anche sotto Uno era lì Tutto bene? Gassi in arrivo Spostamento della zona sicura Ne restano solo dieci Sì Ne abbiamo due, no? Allora usalo Richiedo ricognizione aerea Uno, due, tre, quattro Qui Falcon 3-0 ricevuto Battugliamento UAV iniziato Ah, un paio di gente è proprio qua sotto Quelli dove sono? Ah, sono sotto Sì, ma la zona se si chiude è sotto Autonomia UAV esaurita Eh, a chi resiste di più Se non c'abbiamo la maschera È una roba Sì, ma noi possiamo In teoria Ma la zona si sposta, eh Quindi non è proprio così No, no Eccoli Ah, era lì sotto Era una parte lì sotto No, ti hai finto di niente Lasciali Sì, ok Uh, Fabolo, Fabolo Vieni con me Vieni con me Pronto? Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Veloce Veloce Eh, minchia Veloce Veloce No C'è un fuori qua Mezza Alcuni sono qua sotto, eh Sotto sono, eh UAV Bravo, Fabolo Lì sotto sono, eh Vado qui Gas in arrivo Zona sicura Uno l'ho terrato, eh Vai safe Vai safe Tutte e due Cheesy Ok, Fabolo Allora Sono gli ultimi Sono sotto Sì, Fabolo Vieni, vieni al centro Vieni al centro Devi venire al centro Devi venire al centro Si chiude tutta Eh, sei morto Eh, mi sono sotto Eccolo Eccolo Fermo, fermo No, devo, no Devo far così Devo far così Devo aspettare, eh Tanto c'è l'auto-revive Sì, sì Madonna cosa ho fatto Fabio Hai visto che ho spettato apposta Madonna che serio che sono Che serio Vedi al profilo del terraminale Ho fatto benissimo Sì Ma no, no Mamma mia cosa ho fatto Perché sono blu Cosa vuol dire